ciao a tutti gli amici dell'architettura sostenibile mi trovo all'interno del finile di questa contrada in lessinia ora che la copertura è stata completamente rifatta come si può vedere abbiamo sostituito le travi esistenti con delle travi nuove sono dei tronchi di abete più abbiamo isolato la parte centrale della cosiddetta tè da cimbra cioè quel tetto più spiovente dove un tempo era realizzato completamente in canna palustre noi lo abbiamo isolato in fondo della fibra di legno e all'interno abbiamo lasciato la canna palustre con dei pannelli dello spessore di circa 5 centimetri in modo da ricordare l'immagine che c'era all'interno di questo finile abbiamo lasciato le lastre di pietra come in origine che poi faremo anche qui la tenuta all'aria e le isoleremo dove possibile modo che il corrento non fuoriesca qui abbiamo il solaio e in legno isolato con delle quali di paglia a 40 centimetri abbiamo cercato di rendere questo involucro il più efficiente possibile dal punto di vista termico poi andremo anche isolare queste due pareti qui le due estremità e creeremo questa stanza confortevole per l'uso a cui sarà destinata sotto in origine c'era la stalla dove appunto gli animali erano all'interno e qui sopra c'era il filino dove il proprietario andava a portare il fieno da qui alla stalla sotto è il risultato finale di questa strutturazione di questa parte della contrada ti ricordo che se vuoi vedere altre architetture ad alte prestazioni realizzate con materiali naturali tipo paglia puoi andare sul mio sito edificilipagliaitalia.com ciao da nicola preti e ci vediamo nel prossimo video